In queste ore l'azienda mi ha comunicato la volontà di ritirare la procedura di cessione. La Whirlpool ritira la proposta di vendita dello stabilimento napoletano all'Elvetica PRS e tirano un sospiro di sollievo i 400 operai di via Argine e i circa 200 impegnati nell'indotto irpino. All'annunciare via Facebook lo stoppa la cessione il ministro dello sviluppo economico, un primo fondamentale passo che lascia intravedere il prosieguo della produzione di lavatrici. Ora bisogna far ripartire il tavolo del confronto, ha dichiarato Patuanelli. Il dietro front da parte della Whirlpool è giunto dopo un braccio di ferro lungo sette mesi che aveva contrapposto la multinazionale americana ai lavoratori, sindacati e in seguito al governo. Se la decisione di non vendere una buona notizia resta la criticità del sito partenopeo che dovrà essere affrontata nelle prossime settimane. I sindacati confederali confermano per domani lo sciopero nazionale di due ore del settore metalmeccanico che anticipa la manifestazione del 20 novembre per gli oltre 169 tavoli di crisi aperti al Ministero. Confermato per domani anche il corteo che partirà da Piazza Mancini per raggiungere Piazza del Gesù Nuovo a Napoli dove è prevista la chiusura con il comizio. Alla manifestazione prenderanno parte i lavoratori irpini di Scami, Puzzle e Cellblock. I siti produttivi di Forino, Sant'Angelo, De Lombardi e Montoro legano infatti il loro destino a filo doppio con quello di Whirlpool. Carmine De Maio, segretario Clicktem CGL conferma aver esso visibile l'indotto e contribuito a far capire la portata dell'avvertenza. Naturalmente ha assicurato De Maio non abbasseremo la guardia lunedì a mezzogiorno e in programma un incontro in provincia d'Avellino tra una delegazione dei consigli e rappresentanti delle aziende irpine, lavoratori e sindacati. A Palazzo Caracciolo sarà sottoscritto un documento da inoltrare alla regione Campania per tenere alta l'attenzione sulla vertenza Whirlpool e l'indotto irpino.